Tra Conte e Grillo, perché è una partita ancora tutta da giocare? Non mi pare. Grillo ha detto la sua, ha ricevuto una fraccata di insulti sotto i suoi post. Non c'è un solo parlamentare, forse uno, che gli sia andato dietro. Gli è andato dietro qualcuno che è un ex. Quegli espulsi perché si opponevano al governo Draghi, dove lui ha voluto entrare, non Conte, che non era ancora nemmeno iscritto. Ma è una partita... E gli è andata dietro anche l'ex sindaca di Roma Raggi. Che non è una parlamentare, appunto, è una consigliera comunale. E che al terzo mandato, a dimostrazione del fatto che la regola dei due mandati è già cambiata da Di Maio. E che si schierò per prima a favore del governo Draghi. Quindi non è molto credibile nel dire no alle alleanze. Io penso che finirà come decideranno gli iscritti e i non iscritti, che parteciperanno a questa assemblea che viene organizzata, credo, tra fine ottobre e inizio novembre. Dove, dopo la scopola che hanno preso alle elezioni europee, tutto verrà messo in discussione. Una volta tanto, uno varrà uno. E con Renzi come finirà Travaglio? Non ho idea. Vedo che si agita molto. Ha anche raccontato che l'intero elettorato del centro-sinistra non vede l'ora che lui ritorni. Ma poi ci sono io che cattivone non lo voglio. Se fossi io il suo problema, credo che potrebbe dormire sonni tranquilli. Il problema è che tutti i sondaggi dicono che a non volerlo sono gli elettori del PD, dei Cinque Stelle a maggior ragione, di Sinistra Verdi. Ma io poi, sai, assisto anche divertito a questi giochetti che si fanno sui giornali. Perché per tutta l'estate abbiamo avuto un giorno un'intervista a Tajani e un giorno un'intervista a Renzi e viceversa? Per la semplice ragione che c'è un bel giochino in atto. L'altro giorno alla festa del fatto Bersani ha detto che ce lo stanno buttando dentro. Chi è che ha interesse a buttare dentro Renzi al centro-sinistra? Chi sta lavorando per portare anche Forza Italia. C'è qualche mente malata che pensa che per buttare giù la Meloni e togliere il consenso al centro-destra bisogna prendere un pezzo del centro-destra e infilarlo nel centro-sinistra. Renzi fa d'apripista, poi arriva Forza Italia. Questa è la miopia storica, è la stessa miopia di Macron che sta cercando di far governare quelli che hanno perso le elezioni per non far governare quelli che le hanno vinte. Il risultato è che moltiplichi i voti di coloro che vorresti contrastare. Questo però è quello che sta succedendo. Dopodiché se vai a vedere questa ridicolaggine che senti dire da Ellie Schlein tra una supercazzola e l'altra che il problema sono i temi e non i nomi. Io ho segnato Tav, Inceneritore, Ponte sullo Stretto, Premierato, La Russa e non la Russia, Costituzione, salario minimo, reddito di cittadinanza, rapporti con Israele e con Bin Salman, Jobs Act, legge elettorale, conflitti di interessi, etica pubblica e giustizia. Allora, dove Renzi vota sempre con la destra, quali sono i temi sui quali trovano un accordo? O rinuncia a tutto quello che ha detto nel resto della sua vita e si iscrive alla terza internazionale, oppure io non posso che fargli gli auguri. Mi ha divertito molto Calenda che quando la Schlein si è messa con Renzi ha detto che pensavo di essere l'ultimo Pirla e invece ero solo il penultimo. No, ma non si è messa con Renzi ancora, adesso va un'ora e del vero. Certo, c'è un accordo molto preciso. Io penso che non ci sia nessun gioco di vero.